un saluto a tutti i follower di Tekonera.it benvenuti ragazzi alla recensione di nintendo switch la nuova console ibrida di casa nintendo che ci permette di giocare sia a casa che in mobilità ed è proprio per questo aspetto che io l'ho comprata perché appunto mi permette di giocare fuori casa faccio subito una premessa questa non sarà una recensione tecnica sarà più una chiacchierata per dire appunto cosa ne penso dalla nintendo switch perché a me personalmente le recensioni tecniche sulle console non mi piacciono non mi piacciono molto quindi dopo due mesi insomma mi sento pronto a dirvi cosa ne ne penso e direi di partire dai giochi perché secondo me sono un punto cardine al momento della nintendo switch e al lancio appunto il 3 marzo nintendo switch è stata proposta con sostanzialmente due giochi adesso nei prossimi giorni insomma se non è già uscito uscirà il nuovo capitolo di super mario kart 8 ma appunto al day one è stata proposta con one two switch e il nuovo capitolo di zelda partiamo proprio da one two switch che è una sorta di combo di giochi che ci danno la possibilità di scoprire tutte le potenzialità della nintendo switch bisogna quasi sempre giocare con i giochi con staccati praticamente sempre in due bisogna guardarsi in faccia ed è ci sono tanti giochi comunque divertenti all'inizio ce ne sono pochi poi man mano che si gioca se ne sbloccano tanti tanti altri gioco divertente ma fino a un certo punto a meno che voi appunto non abbiate sempre gente a casa e fate sempre delle feste devo dire che dopo un po è un gioco che è stanca perché insomma è praticamente sempre e sempre lo stesso diventa monotono monotono non è zelda chiaramente che è assolutamente il gioco di punta di nintendo switch un open world fantastico dove veramente se decidete di definirlo ci vorranno veramente tante tante ore graficamente stupendo anche quando si switch appunto dal dalla modalità portable a quella casalinga veramente la grafica è eccezionale non abbiamo un 1080p pieno full ma siamo intorno ai 920-930p ed è insomma anche questo un momento stato un momento di polemica all'inizio quando sono uscite le prime i primi dati tecnici sulla sulla nintendo switch però devo dire che io sul mio 40 pollici curvo non ho notato grandissime grandissimi problemi per giocare non in full hd ma solamente insomma 920-930p il nuovo capitolo di super mario kart che uscirà nei prossimi giorni o se non è già uscito in base a quando vedrete questa recensione io ho avuto modo di giocare a super mario all'open all'open day che c'è stato a milano appunto molto tempo prima che uscisse la console e devo dire che è un gioco che assolutamente mi ha divertito l'ho preso mi arriverà in questi giorni esattamente come ho giocato a zelda che sono uscito a finire veramente con non poche difficoltà e one to switch ok quindi questi sono i tre giochi che io mi sento così appunto di consigliarvi attualmente per nintendo switch certo molti che vedranno questo video diranno ma non è vero ci sono solo questi tre giochi nello store ce ne sono tanti altri o comunque ci sono diversi da poter scaricare è verissimo ci sono tanti giochi nello store nintendo ma io personalmente considero questi tre in particolar modo zelda e super mario kart i veri punti di forza per quanto riguarda la nintendo nintendo switch che va a che vanno praticamente a usare tutte le potenzialità della console passiamo alla console direi di passare a parlare un po dell'estetica che insomma la vedete qua dire che dal punto di vista estetico una console che mi piace davvero davvero tanto è veramente leggerissima fatta veramente molto bene secondo me la scelta della plastica è una scelta corretta perché essendo appunto una console che si può portare in giro anche se nintendo non amo molto questa definizione perché per loro la nintendo switch è una console più da divano più da casa al mare che portarcela in giro mentre esempio ho scelto il un parco adesso appunto per parlare perché appunto io l'ho scelta per quello che mi piace portarmela in giro anche se poi sul l'aspetto display ci sarà da dire qualcosa di poco carino diciamo così solo nintendo switch o per quello perché è una console che a me piace portarla in giro e anche se nintendo ribadisco non piace tanto questa definizione dicevo la scelta della plastica è molto secondo me molto corretta da parte di nintendo perché è una console appunto che bisogna portarci con noi e pensate se fosse sono fatta in alluminio ci fosse la bella la scocca posteriore in vetro ci dovesse cadere sarebbe un problema non andare a cambiare una parte in vetro una parte dell'alluminio invece essendo tutta plastica se mai si dovesse rompere per una nostra disattenzione sicuramente avremo dovremmo andare a spendere molti meno soldi poi è una console che chiaramente può essere regalata anche a dei bambini o comunque a dei ragazzini che magari stanno meno attenti a quello che può essere appunto la cura della della console come potremmo fare noi magari persone un po più grandi e quindi magari se dovesse cadere se andiamo a mancare una parte di plastica facilmente sostituibile leggerezza leggerezza è stata la prima cosa che mi ha colpito di questa console quando l'ho appunto provata a milano io pensavo che in modalità portable fosse veramente pesantissima e invece no è veramente leggerissima anche sicuramente la scelta della plastica buona anche dire l'ergonomia i bottoni secondo me si si premono molto bene hanno la la distanza giusta secondo me anche le levette analogiche qui le rdl sono siccome posizionate molto molto bene e quindi dal punto di vista della costruzione assolutamente promossa abbiamo qui lo sportellino che va ad alzare e viene usato un po come stand anche se non è proprio il massimo della della sicurezza sono così della resistenza diciamo così dove sotto abbiamo il vano vediamo questo che riesco a farlo vedere abbiamo qui la micro sd per l'espansione di memoria poi abbiamo chiaramente la possibilità di andare a sganciare i joy con vedete quindi abbiamo la possibilità di giocare con i joy con staccati e all'interno della scatola come vi ho fatto vedere nell'unboxing il 3 di marzo appunto quando è uscita la console abbiamo anche quel supporto che ci permette di trasformare i joy con nel classico pad su quello io vi avevo già detto qualcosa se non ricordo male eventualmente ve lo ridico io mi sono trovato non benissimo a giocare con quel tipo di pad o comunque con la soluzione perché perché insomma è troppo stretto le mani tendono a essere troppo vicine questo problema probabilmente che abbiamo noi siamo persone magari hanno le mani un po grandi e qui in questa mente sono arrivato a stare molto scomodo nel giocare con quel tipo di soluzione chiaramente insomma se volete spendere 70 euro c'è la possibilità di comprare il pro control che è di fatto un pad come abbiamo sulla PlayStation o l'Xbox dicevo parte negativa assolutamente il display per poter giocare in in questo momento adesso so scendo il sole in mobilità perché con la luce diretta del sole non si vede assolutamente niente quindi proprio per questo forse nintendo non ama definirla una console portatile perché appunto dobbiamo non è possibile giocare con la luce diretta del sole io l'ho portata al parco ma sono portata anche qualche giorno al mare direi che in spiaggia non si vedeva assolutamente niente quindi insomma è un consiglio che vi do se pensate di prenderla e giocarci al parco al mare o dove volete assolutamente no è una console portatile da portare alla casa al mare da poter giocare in aereo in treno ci siete dei pendolari insomma il concetto di portabilità per quanto riguarda nintendo switch è questo perché altrimenti non si spiega come il display sotto luce diretta del sole non si veda assolutamente nulla discorso discorso batteria la batteria direi che mi ha convinto sono stati fatti sono usciti già adesso se non sbaglio due aggiornamenti software che hanno migliorato anche la batteria all'inizio insomma non si sapeva tantissimo su sulla durata della batteria insomma in quanto era capiente devo dire che giocando a zelda io sono arrivato a fare all'incirca tre ore di gioco continuativo prima appunto che la console mi avvisasse che si stava appunto scaricando quindi direi che visto che zelda è il gioco penso appunto di vista grafico quello più prestante direi che indicativamente le tre ore di gioco sono quelle che mi sento di darvi come e definitive poi appunto nei prossimi giorni giocherò anche a mario kart e eventualmente andrò a vedere se la batteria aumenterà o diminuirà in caso appunto giocare solitamente con in modalità portable vuoi rapporto che io ho avuto la possibilità di ricaricare la console sempre rimanendo in tema batteria con qui abbiamo l'ingresso usb type c con una power bank la power bank insomma deve essere abbastanza capiente insomma dai 10.000 mAh in su ma questo è sicuramente una cosa in più perché appunto ci permette se siamo in treno in aereo dovrete se vuoi e si sta scaricando la console basterà semplicemente attaccare un power bank e la nostra Nintendo Switch continuerà a caricarsi senza nessun tipo di problema due parole sulla dock che è quella appunto che ci permette di collegarla alla tv fatta anche quella completamente in plastica abbiamo dietro uno sportlino che nasconde degli ingressi usb 3.0 abbiamo l'uscita usb type c che andiamo appunto attaccare alla alla corrente direi anche quella tutto sommato una scelta per quanto riguarda i materiali direi senza direi ottima perché appunto anche quella una parte comunque in plastica io insomma quando sono per queste cose penso sempre che la plastica sia la cosa migliore perché è inutile fare una console figa e quando poi ti cade ti si spacca piangi perché devi spendere i miliardi per sistemarla poi insomma nel nell'unboxing che vi ho fatto non avete visto tutti i vari tutti i vari accessori conclusioni conclusioni ragazzi beh insomma ne vale la pena comprarla la mia risposta è nì in maniera un po da ponzio pilato non mi sbilancio da nessuna parte perché perché secondo me è una console che attualmente non ha espresso ancora tutto il proprio potenziale però è sicuramente una console che gli amanti nintendo compreranno a scatola chiusa e lo sappiamo quindi invece magari come me come noi che hanno magari giocato a tante altre console e hanno visto sempre nintendo un po con diciamo così diffidenza perché per esempio questa è solamente la mia terza console nintendo nell'arco punto della della mia vita da videogiocatore però mi ha incuriosito appunto il discorso per portarmela in giro e per quello l'ho comprato come ho detto all'inizio quindi sicuramente una console che non ha espresso ancora tutto il potenziale quindi discorso è se siete degli appassionati nintendo la completa scatola chiusa quindi probabilmente non vi servirà neanche questo tipo di raccomandazione se invece non siete dei dei malati di appassionati nintendo il mio consiglio è quello di aspettare ancora un po perché a meno che non vi piaccia zelda non vi piaccia super mario kart giochi che ci possono interessare non ce ne sono si vocifera che potrebbe uscire residentivo dovrebbe uscire il nuovo fifa a settembre quindi quelli sono giochi che chiaramente per la massa di del pubblico videoludico può essere chiaramente interessante da comprare quindi ribadendo se siete degli amanti nintendo la comprerete subito quindi comprate se invece non siete proprio così insomma dei dei fan nintendo al cento per cento siete o come me quelli dell'ultima ora vi consiglio di aspettare a meno che appunto non vogliate provare zelda e super mario kart ok ragazzi siamo giunti al termine io come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che caricheremo da qua in avanti un bel mi piace al video se il video vi è piaciuto commentate condividete iscrivetevi a tutti i nostri social telegram facebook e twitter e noi ci rivediamo al prossimo video qua su tech on air un saluto da scid per tech on air punto it